Ciao ragazzi, come state? A noi mancate tantissimo e quindi abbiamo pensato con i maestri dello Junior Tennis Pirano, per sentirvi più vicino, di fare per voi una serie di filmati sui colpi fondamentali del tennis e di proporvi dei giochi simpatici da fare a casa. Siamo pronti insieme? Partiamo! Partiamo dal drift, preparazione, impatto finale. Sprit, preparo, impatto finale. Allora, impugnatura, mano dominante, nel mio caso la mano destra, la metto sul piatto corde, scivolo fino in fondo al manico e stringo. La mano non dominante, mano sinistra, mi aiuta a sorreggere la racchetta tenendola qui sul cuore. Posizioni d'attesa quando aspetto la palla dell'avversario, partendo dal basso, piedi leggermente divaricati, ginocchia piegate, busto proteso in avanti, la racchetta davanti al corpo con i gomiti già ben stancati, ok? Quando capisco che la palla arriva dalla mia parte destra, mi accingo a giocare il mio dritto, quindi la prima cosa che faccio è split step, che mi dà l'energia per iniziare il colpo. Giro le spalle aiutandomi con la mano sinistra, che me la spinge fuori. Porto indietro la racchetta tenendola alta, la base bella ampia. Più i piedi sono larghi, più spinta mi daranno poi sul colpo. Da qui mi accingo a colpire all'altezza dei fianchi, blocco la spalla, sguardo bene sul punto di impatto sulla palla, proseguo e vado a finire con il gomito che va in direzione della palla e le corde che guardano in fuori. Dopodiché non rimango sul colpo ma torno subito in posizione, pronto a ricevere la palla successiva. Ok? Vai! Ora vediamo come mettere in pratica il colpo del dritto anche in una situazione di spazi ristretti in casa. Partiamo senza racchetta. Con la mano lancio la palla contro il muro, la riafferro con tutte le due le mani e la rilancio. Vieni sempre ben di là, mi spingo da sotto con le mani e la rilancio. Posso provare a farlo anche con la mano sinistra, con la mano non dominante. Ok? Ferro e la rilancio. Ok? Prendiamo la racchetta. Stessa cosa fermando la palla tra la mano e il piatto colpo. Da qui cerchiamo di avere il massimo controllo. Ferro, avvisco, ferro e proviamo a farlo sempre un pochino anche con la mano sinistra. Ok? Ok? Step successivo. Ammortizzo sulle corde e colpisco. Sempre massimo controllo, mi raccomando. Ammortizzo, colpisco. Proviamo una volta con la mano non dominante. Ammortizzo e colpisco. E poi arrivare allo step finale dove colpisco direttamente. Da qui. Occhi sempre puntati bene sulla palla, mi raccomando. E un paio con la mano sinistra. Ci siamo? Provate anche voi a casa. Buon lavoro! Fateci vedere come ne ve la cavate. Mandateci dei video in cui vi esercitate a casa, mi raccomando, senza rompere niente. Vai! Ciao a tutti ragazzi, un forte abbraccio e speriamo di vederci presto sui campi dello Junior Tennis. Ciao!